Grave incidente domenica sera nell'Alta Padovana in via Molino Nuovo a Campo San Piero. Un motociclista è finito fuori strada terminando la sua corsa in mezzo a un campo agricolo. I vigili del fuoco arrivati dalla sede centrale hanno messo in sicurezza la moto, illuminato a giorno la zona e collaborato con il personale sanitario del SUEM per il recupero della vittima che è stata stabilizzata per poi essere trasferita in codice rosso in ospedale. Sul posto la polizia stradale per i rilievi dell'incidente, mentre le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.